Secondo appuntamento con il ciclo di conferenze pubbliche di divulgazione scientifica dal titolo La Fisica Traversa Fanno, organizzate dal liceo scientifico Torelli con la collaborazione della Mediateca Montanari. Venerdì 11 dicembre nell'Istituto Superiore, dalle ore 17.30, Marco Arcani dell'Osservatorio Astronomico di Tradate illustrerà la cittadinanza a questo rilevatore di raggi cosmici chiamato MDS. È un progetto a cui partecipa anche l'Istituto Fanese, diventato partner di una rete internazionale di astrofisica. Il Torelli ha infatti acquistato il sofisticato macchinario che sarà utilizzato sia per scopi didattici che per la ricerca sperimentale. È uno strumento che rileva le particelle secondarie che vengono pronte in atmosfera quando i raggi cosmici incidono sulle molecole dell'atmosfera. Creano queste particelle secondarie che si chiamano muoni e lo strumento fa un conteggio di quando i muoni arrivano dall'atmosfera e ogni minuto. Questo strumento è in rete con altri sempre in Italia? Ce ne sono otto attualmente in rete, sono giunti due circa un mese fa. L'idea dell'organizzatore del progetto, si chiama Progetto ADA, è di creare una rete piuttosto vasta di questi strumenti perché permetterà di poter studiare i raggi cosmici ad altissima energia che vengono, questi raggi cosmici, da sorgenti extragalattiche, quindi sono molto al di fuori anche della nostra galassia. La rilevazione simultanea di picchi di muoni che arrivano in atmosfera da parte di tutti gli strumenti è indice di un'emissione da parte di queste sorgenti extragalattiche molto lontane.